anche se sono passati tanti anni ho tantissimi ricordi di quella magica serata rappresentava il sogno di un'intera di un'intera città di un'intera regione ricordo le ore prima dentro lo spogliatoio con qualche mezza battuta a stemperare un pochettino l'emozione che che si era creata l'inizio non fu proprio dei migliori e ci eravamo giurati di continuare a lottare fino alla fine un pallone alla volta e un setto alla volta praticamente sentimmo che la gara stava cambiando tocca il pallone a muro e murai quella palla che praticamente andò a finire all'incrocio delle righe del posto quattro avversario il setto esplose un fiume di persone entrano dentro il campo a festeggiare a stritolarci avevamo raggiunto il nostro obiettivo sono delle emozioni che saranno per sempre scolpite nel mio cuore